Bene amici, rassegnona di oggi e vi accorgerete che quando diciamo IMSS, imprevedibile, senza regole, si naviga a vista e altre amenità, beh, non lo si fa a caso. Sorpreso infatti in queste ore, con disposizioni fortissimamente in anticipo. Simulatore poi del sole 24 ore per capire quanto prenderete da marzo 2022. Tra oggi e il 2 dicembre finalmente si potranno chiedere, con solo 8 mesi di ritardo, i nuovi contributi a fondo perduto per Equativo e alcuni bonus del sostegno IBIS appunto fin'oggi bloccati. Arrivano anche gli emendamenti salva invalidi dal lupo IMSS, nuovi bonus sociali, sondagione finale e molto altro. Io sono Mr. Lul, in descrizione trovate la divisione in capitoli per accedere velocemente all'argomento che vi interessa di più. Partiamo, like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione e adesso sì, sigla! Oh, e guardate qui. Allora, se oggi, come sapevamo, stanno arrivando i pagamenti per l'assegno Ponte Figli, no RDC, quindi per chi ha fatto domanda a competenza ottobre, beh, da ieri. IMSS sta già elaborando e dando gli esiti delle mensilità dell'assegno con riferimento novembre. Dunque, in super è sorprendente anticipo. Verificate nei vostri fascicoli, ma fermi, perché qualcuno ha anche già la data di disposizione. Competenza dall'1 al 3011, lo vedete da voi in sovraimpressione, con data 6 dicembre. Tridico quindi ribalta le nostre certezze, visto che finora IMSS aveva sempre erogato verso la fine del mese. A fine ottobre era stato pagato settembre, a fine novembre è stato pagato ottobre, e invece adesso surprise. Anticipo però anch'io le vostre domande. E per chi ha il reddito di cittadinanza, quando arriverà l'integrazione dell'assegno competenza novembre? Beh, sappiamo che IMSS tipicamente eroga l'assegno unico contestualmente alla ricarica di metà mese, o meglio. Così ha sempre fatto negli ultimi tempi. A metà novembre è stato pagato ottobre, a metà dicembre attendiamo presumibilmente novembre. A proposito sempre di assegno unico, quello vero, il Sole 24 Ore mette a nostra disposizione il suo simulatore per verificare velocemente quanto vi spetterà da marzo 2022. Link in descrizione. E attenti, finalmente dopo soli otto mesi dalla pubblicazione in gazzetta del decreto sostegni bis, professionisti e partite IVA potranno richiedere il contributo a fondo perduto, per equativo, diciamo quello a conguaglione. E non solo, dal 2 dicembre potranno partire anche le richieste per gli aiuti e bonus, con tributi speciali riservati ai titolari di cinema, teatre, musei, discoteche, sale da ballo, piscine e palestre che sono rimaste chiuse per i vari provvedimenti di emergenza. Ma questi sono anche giorni caldi per la manovra e per il decreto fisco. Oltre 6.000 emendamenti da parte dei partiti per chiedere delle modifiche ai testi. Tra i più attesi, certamente, due riguardano la disabilità. Abbiamo l'emendamento Orlando, che dovrebbe restituire la pensione ai parziali che svolgono lavoretti occasionali e saltuari, mentre l'emendamento Lega, siamo a speranze qui quasi zero, che propone un micro aumento delle indennità pensionistiche mensili. C'è poi ancora la richiesta bipartisan, insomma, di tutti, di aumentare i fondi per calmierare i prezzi delle bollette e rivedere al rialzo i bonus sociali o super bonus sociali. Infatti, senza ulteriori ritocchi, il rischio batoste e belleforti per le famiglie è dietro l'angolo. Chiudo con una domanda, un sondaggione un po' provocatorio. Il nostro, certamente, non è un paese per giovani, non è un paese per vecchi, tra virgolette, per anziani, non è un paese per poveri, non è un paese per disabili. E l'ultima manovra, beh, lo ribadisce chiaro e tondo e ce lo urla in faccia con la riforma del fisco, che se ne infischia dei redditi bassi, e la non riforma delle pensioni, che se ne infischia dei giovani, in generale un po' di tutti. Quindi, lo chiedo a voi, è un paese per chi? Detto questo, come sempre, vi ringrazio. Se la rassegna è stata utile, interessante, mi raccomando, non scordatevi. Like, iscrizione, campanone, abbonamentone, condivisione. E noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da Mr. Lull.